buongiorno signor cagnolino, ma lei è stupendo, vorrei rivederci? mamma, abituato alle porte che si aprono così ecca, ma dopo tutto questo tempo che la mamma ti ha guardata, tu torni così a Milano? mamma, mai visto un cane più ingrato? vieni che andiamo tutti, vieni, no dice io sono pronta a tornare brava la mia stellina, curiosa, curiosa bravo amore, bravo, bravo amore, bravo dice, chi è questo intruso? bravo cioccolatino, bravo bravo amore, bravo, bravo oh cado, è stato messo in punizione è stato messo in punizione il signor Carlo guarda, guardalo, cattivissimo è la più brava, è quella che gioca in teso gli altri sono un po' guerra, vuole giocare amore guarda, guarda, guarda che tenerezza sai che amore che è stato a tino no, ma è reso, è reso in possesso eccole qui, tutti i wowi e ovviamente non invitato alla festa al piano di sopra avocado che non ha ancora imparato a salire ciao signor Carlo, buongiorno ciao 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 Molto carino questo cagnolino, molto carino, molto simpatica anche questa è già un pece, brava Ciocio. E mordi i piedini a Wen Wen. Comunque ragazzi preparatevi perché oggi andrà online un nuovo video. Tadà! Signorina Gonga, io purtroppo la devo salutare, noi ci vediamo tra qualche settimana e staremo insieme tantissimo. Però purtroppo signorina Gonga io la devo salutare adesso, mi mancherà molto eh. Mi mancherà molto il suo nasino, le sue zampette pusolenti, quelle zampette pusolenti. Ultimo bacini? Grazie. Arrivederci signorina Wen Wen anche a lei, si diverta, facciala brava, controlli tutti gli altri Waui che lei è il capo dei Waui. Beh l'amore mio. Grazie, arrivederci signorine. Ciao Kado, ciao Angie. Milu, tu sei molto interessato alla mia partenza, vedo eh. E' super duper caro. Sì, non lo caro. Questi giorni ho visto che mi state taggando in tanti è perché state ricevendo il campioncino del nuovo profumo di Jiren Shi, Irresistible. Sono super contenta che vi sia piaciuta l'iniziativa. Chi non l'ha ancora ricevuto abbiate un po' di pazienza perché l'hanno richiesto in tantissimi ma lo riceverete. Ciao Kado, ciao. Ciao Kado. Ciao Kado, ciao. Ciao Kado, ciao. Ciao Kado, ciao. Sefra è da Charlotte Tilbury. Ho ricevuto invece questo pacco con i suoi prodotti. Ma che belli, non li ho mai utilizzati. Sono molto curiosa di provarli perché Mr. Daniel me ne ha parlato benissimo. Grazie. Ciao.